L'innovazione è nel nostro DNA e per noi innovare vuol dire renderti la vita più semplice. Per questo nasce Selfie, la nostra offerta digitale. La gestisci tu. Hai tutti i servizi di un conto corrente. Puoi ottenere un prestito in tempo reale e fare operazioni in totale autonomia. Apri conto Selfie. Canon è zero per un anno. E se accrediti lo stipendio, navighi gratis con Tim. Selfie. Mediolanum come voi tutti. Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.